Addestrato da ex poliziotti, uno dei kamikaze che si è fatto esplodere all'interno del Bataclan aveva preso lezioni di tiro in un'associazione frequentata da agenti in attività e anche in pensione. Questa l'incredibile quanto preoccupante notizia che arriva dai media francesi. Nel 2012 Samir Amimur, l'ex conducente degli autobus che partecipa alla mattanza del 13 novembre nella sala concerti parigina, frequenta un poligono legato ad ambienti della polizia. Uniche richieste per entrare nel club, avere almeno 18 anni e pagare la quota di 130 euro. Per il resto nessun controllo ulteriore. Samir, che impara a maneggiare una 9 mm, una 38 speciale ed un fucile di precisione, per non addestare sospetti, si fa tagliare la barba. Dopo il primo corso ha la possibilità anche di accedere ad un livello superiore per migliorare la tecnica. Per quanto riguarda invece la caccia del super ricercato Salah, secondo gli 007 francesi sarebbe riuscito a fuggire in Siria.